Salve ragazzi, questo è un video a informazioni, cioè ho in mente di fare con voi un nuovo tipo di video, cioè dove voi mi raccontate le vostre più belle storie d'amore che avete avuto e io poi dopo ne farò un video, però me lo dovete raccontare qui sotto, ok? Mi raccomando e fatemi sapere se vi piace questa nuova idea che mi è venuta in mente adesso, ok? Ciao!